È una situazione che capita spesso, quella di aver fatto del lavoro su noi stessi, di essere, come dire, un pezzo in là nel nostro percorso di crescita personale e tuttavia avere l'impressione di rifare sempre gli stessi errori, più che altro che le condizioni tendano a replicarsi ancora e ancora. Questa è una cosa, per esempio, che noi verifichiamo spesso quando abbiamo a che fare con situazioni di relazione con partner. Abbiamo la sensazione che ci capiti sempre lo stesso tipo di personaggio al fianco. Una delle ragioni per cui questo succede è che noi tendiamo a compensare in quel partner l'amore non ricevuto dai nostri grandi prima. Se tentiamo di compensare e di chiedere al nostro partner di guardarci, di vederci, di riconoscerci come non hanno fatto i nostri grandi nella nostra percezione prima, molto probabilmente il partner, la partner, non reggerà, come dire, tra virgolette, la botta, non regge quel tipo di richiesta, è una richiesta impossibile e tenderà ad andarci. Ma noi non ci accontenteremo e andremo a cercarlo ancora e ancora. Il punto non è in situazione risolvibile con pari, il punto è cercare di capire qual è il motore che tentiamo di compensare nella relazione con i pari. Quindi il punto sta nella famiglia di origine.